Siamo qua ancora davanti alle buche di via Bramante che sono diventate esagerate. Pensate, c'è dentro un mio amico speleologo, è riuscito a entrare, ma abbiamo trovato una signora in bicicletta che si era persa a fine febbraio e poi abbiamo trovato anche Lukaku, è per quello che non rispondeva al telefono, perché è dentro lì, allora, Piero vieni su, fate qualcosa, non possiamo tenere queste buche, prima o poi va dentro il tram, sparisce il tram, buche di via Bramante, amministrazione, su, fate qualcosa. Allora, Piero, cosa c'è ancora? Chi è? Un vigile alto. Portalo su, dai. Saluto, sta arrivando il tram.